Oggi ci sarà il comparison tra Peter Moller e Chris Bumpstead in quanto avevo lasciato un sondaggio 3-4 giorni fa in cui vi facevo scegliere quale comparison dovevo fare era Adichupan contro Sean Clarida oppure Peter Moller contro Chris Bumpstead ha vinto Adichupan contro Sean Clarida che vi invito a guardare e però di conseguenza lo stesso oggi farò Peter Moller contro Chris Bumpstead se non sapete chi è Peter Moller Peter Moller è un bodybuilder che ha sempre gareggiato in altre federazioni gareggiato in altre federazioni in quanto i premi gli fruttavano di più si è fatto un bel gruzzoletto, mettiamola così e recentemente al Romania Muscle Fest a novembre si a novembre ha partecipato a quella competizione vincendo la sua ProCard IFBB Pro quindi diventando professionista e il giorno dopo vincendo la categoria Classic Physique si è qualificato al Mistralimpo 2021 ha vinto una gara particolare con dei piazzamenti che sono discutibili in quanto mi fa strano che uno il giorno prima vince la ProCard nella categoria Open perché lui ha vinto la ProCard nella Open il giorno prima e il giorno dopo vince la categoria Classic quando nella stessa gara c'era un Christian Zagarella che veniva dalla vittoria all'Europa Pro e a quella gara si è piazzato undicesimo e nella stessa gara c'era anche Mike Summerfield che lui, anche lui era arrivato terzo all'Europa Pro un mese prima neanche, forse tre settimane prima e alla Romania Muscle Fest si è piazzato quinto e non ditemi che quelli che li sono stati davanti cioè i primi dieci erano migliori di lui perché Zagarella era nettamente migliore quindi piazzamenti discutibili ecco, mettiamola così comunque oggi giudicherò giudicherò alcuni parametri delle Classic perché se non sapete quali sono i parametri della Classic non sono gli stessi della Open in quanto nel Classic valutano la struttura non le differenze muscolari ecco, non vanno a a far di compariso nel dettaglio tra Bodybuilder come nella Open guardano molto la struttura dell'atleta nella prima posa Front Double Bicep io al colpo d'occhio si nota subito Bumstead anche se Bumstead non ha delle braccia eccezionali non sono mai stato il suo punto forte Patel Moran invece anche lui ha una buona struttura per il Front Double Bicep con una vita strettissima e ha delle braccia nettamente migliori a quella di Bumstead il Front Double Bicep di Bumstead è una buonissima posa per lui anche se non ha delle braccia eccezionali però devo dire che nel Front Double Bicep Patel Moran a mio avviso lo batte in quanto di struttura sono molto simili entrambi hanno una vita stretta Bumstead devo dire che ha dei dorsali però più grossi quindi una vita iper maggiore un effetto a V maggiore si allarga di più Moran però ha delle braccia migliori quindi a mio avviso Patel Moran è migliore nel Front Double Bicep Side Chest Molan non un pettorale eccezionale soprattutto con il suo pettorale destro è un po' fiappo una condizione non particolarmente eccezionale non era molto diciamo definito invece Bumstead mi piace davvero tanto Chris Bumstead nel Side Chest perché ricorda molto un Side Chest degli anni 70 agli primi anni 70 alla Arnold un pettorale molto rotondo uno scuolato un pettorale molto pieno con delle belle stirature nelle fibre muscolari molto più definito rispetto a Moran non riesco mai a dire il suo cognome Peter Moran o come si dice non riesco mai a dirlo un deltoide migliore rispetto a quello di di Peter quindi a mio avviso Chris Bumstead nel Side Chest è nettamente migliore rispetto a Moran non mi piace molto Moran Molnar la Side Chest non ha un grandissima struttura portata per i Side Chest a mio avviso back double bicep qui invece Chris Bumstead ha nienta Peter Molnar Chris Bumstead ha una struttura migliore ha una larghezza uno spessore nettamente superiore a quello di Moran oggi lo chiamo Peter non voglio più incasinarmi oggi lo chiamo Peter il posto Bumstead ha una struttura migliore rispetto a quella di Peter ha dei glutei nettamente migliori dei glutei più otondi e più definiti con delle belle strutture nei glutei anche nei femorali è nettamente migliore se fosse stato il Chris Bumstead del 2019 avrebbe vinto Peter ma siccome nel 2020 come possiamo vedere adesso Chris Bumstead ha fatto un cambiamento da 100 e lode veramente da un altro livello non sembrava neanche lui veramente nel back double bicep ha fatto un miglioramento incredibile è nettamente superiore in questo caso a Peter a Peter ma non ha la stessa larghezza e lo stesso spessore che ha Chris mi piace molto i suoi piccoli bicipiti nelle sue braccia a Peter però Chris Bumstead è nettamente superiore nel back double bicep poi c'è gente che dice riguardo a Peter Morda che giuro che c'è gente che dice così che sarà quello che batterà Chris Bumstead cosa che a mio avviso sia è veramente improbabile a mio avviso è gente che non ha mai non capisce tanto di bodybuilding e che non ha mai visto una gara di classic physique non è molto molto informata secondo me questo non vuol dire che Peter non sia un ottimo bodybuilder non sia un ottimo classic semplicemente secondo la mia opinione Bumstead è di un altro livello rispetto a Peter Peter nulla da togliere a lui però Bumstead di un altro livello di un altro pianeta secondo la mia opinione classic pose che questa qui è una posa che gli atleti che gradiscono in classic physique possono fare al loro piacimento esistono varie classic pose in questo caso Peter e Chris Bumstead fanno la stessa classic pose qui io vedo più classic Bumstead con un bel vacuum anche se non ha delle braccia particolarmente belle però vedo Chris Bumstead con una migliore struttura in questa pose anche mi piace molto il vacuum rispetto a Mornal Molnar se fossi in lui cambierei la posa classica nel senso ne sceglierei un'altra non mi fa molto impazzire la vedo più come io la vedo più onestamente come un bodybuilder della open non come un classic a mio avviso perché lui è sempre gareggiato nella nella open solo adesso ho fatto lo switch da open a classic physique quindi non ha una grandissima classic pose per il senso motivo della della struttura se avesse un un vacuum mettiamolo così potrebbe essere migliore perché io sono uno di quelli che adora il vacuum soprattutto nel classic physique che non è una cosa fondamentale cioè non è che ogni altra deve avere il vacuum però veramente da un colpo d'occhio nettamente migliore il vacuum rispetto a a non averlo ecco comunque ripeto Chris Bumstead nelle classic pose migliore a mio avviso absent ice purtroppo non sono riuscito a trovare una foto dell'absent ice di di Patel Mornal al Romania Muscle Fest ho fatto veramente tanta fatica a trovare tutte le pose di Patel perché veramente è stata una gara che si è svolta molto chiusa non c'è stata molto molta affluenza ecco è stata una gara che si è svolta molto nell'oscurità molto in chiusura ecco diciamo purtroppo questa qui ripeto non è una foto del Romania Muscle Fest però comunque tra l'altro non so neanche di chi anno sia a mio avviso Mornal è migliore rispetto a Bumstead perché è semplice fatto che ha degli addominali più tagliati delle nostre proporzioni migliore ho notato che Chris Bumstead nell'Habsent Ice era molto era molto meglio nel 2019 quindi l'anno scorso rispetto al 2020 dei dettagli addominali di una separazione che era migliore nel 2019 rispetto a quella del 2020 quindi io per adesso non saprei su cosa basarmi nell'Habsent Ice del 2020 di Patel Moran perché non 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 l'ho trovato in rete e quindi non non saprei su cosa basarmi purtroppo ho solo questa questa foto di Peter non proprio non sono riuscito a trovarne altre quindi questa posa io comunque io così la aderai a Peter per l'Habsent Ice ma non ho foto del Romania Muscle Fest ecco c'è anche quella con Chris Bamstead che fa il vacuum purtroppo anche questa non la posso valutare per l'isempat che non ho foto dell'Habsent Ice di Peter Moran comunque fatemi sapere cosa pensate che farà Peter Moran al Mr. Olympia del 2021 se pensate che si possa classificare nella top 10 oppure no a mio avviso se lo metteranno in top 10 sarà per questione per una mia sensazione ecco sarà per una questione di marketing di una questione economica a mio avviso perché a me come classic non mi piace tanto lo vedo più come un open ma non come un classic se devo dirlo tutta quindi per quelli che dicono che sarà lui il nuovo Mr. Olympia classic physique 2021 no 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 dubito fortemente comunque fatemi sapere cosa ne pensate mettete like il video se ancora non è fatto noi ci vediamo al prossimo video hello guys ciao 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 Grazie.